Ciao bimbi! Oggi voglio creare insieme a voi una decorazione per la tavola di Capodanno, un tovagliolo a forma di alberello. Vi piace? Vediamo subito i passaggi per realizzarlo. È molto semplice! Come primo passaggio posizioniamo il tovagliolo sul piano di lavoro e creiamo delle pieghe con i suoi veli, portandoli quindi dall'angolo destro all'angolo sinistro. In questo modo. Grazie a tutti! Ecco il secondo passaggio. Ruotiamo il tovagliolo a testa in giù e andiamo a piegarlo a metà unendo i suoi angoli. Ed ecco il terzo e ultimo passaggio. Andiamo ad alzare i veli e diamo la forma al nostro albero. Grazie a tutti! Eccoci qua bimbi! Questi sono i miei alberelli conclusi e terminati, pronti per andare a decolare la mia tavola di Capodanno. Vi piacciono? Spero proprio di sì! Ciao bimbi e auguri!